questi canali secondo lui non possono parlare del di fumetto cioè perché considerano una pietra miliare diciamo così ma che vuoi capire ma cosa vuoi capire ma palese non puoi capire tu faber non lo vuoi capire tu faber lo devi sentire lo devi capire ma fa come fa a pensare di capire faber questa è supponenza da parte di chilo reacta perché chilo reacta si sente meglio di faber dice guarda quello è un cretino urla dice delle cose così senza senso questa è la vostra supponenza perché credete di poterlo capire perché quello che fa l'uomo capire come funziona una cosa per modificarla per cambiarla per usarla proprio vantaggio invece faber non va usato non va capito va sentito grazie grazie